A mano, a mano, ti accorgi che il vento... Tenere la mano di chi si ama, si sa, fa stare bene e riduce il dolore. Da oggi però lo dice anche la scienza. I ricercatori dell'Università del Colorado hanno trovato il tempo di occuparsi anche d'amore e hanno dimostrato che quando due persone si tengono per mano, i loro cuori battono all'unisono e il dolore sparisce. Non è solo una fantasia dei poeti, di chi, come Hermanesse, scriveva tienimi per mano quando non riesco a viverlo, questo mondo imperfetto. Gli scienziati parlano di sincronizzazione interpersonale, un meccanismo che è un vero e proprio analgesico naturale. La conferma l'hanno avuta da un esperimento che ha coinvolto 22 coppie. Quelle che si tenevano per mano reagivano meglio al dolore. Niente farmaci, chissà, in futuro per lenire qualche acciacco passerà a forse stringere l'amato o l'amata. Grazie a tutti.